Ciao a tutti, mi presento, sono Walter, titolare della pasticceria Delizia a Riva Azzurra di Rimini. Sono 40 anni che faccio questo mestiere, sono figlio d'arte e perciò mi ritengo fortunato per essermi formato alla vecchia scuola, diciamo, alla vecchia maniera. Ogni giorno cerco di svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile. Ho a cuore i miei dipendenti, cerco di dare un benessere aziendale, nel senso di venire incontro anche alle loro esigenze personali. Abbiamo un occhio per l'ambiente, cerchiamo di comprare prodotti e materie prime dalla zona, locali. Stiamo attenti con i rifiuti, con la raccolta dei rifiuti, cerchiamo di ottimizzarla al meglio. Sono contento di aderire a questo progetto perché mi dà la possibilità di contribuire al miglioramento della comunità di cui faccio parte, poiché sono fermamente convinto che anche un piccolo gesto, se tutti lo facciamo, possa fare la differenza tra un mondo che, come vediamo sotto i nostri occhi, sta andando un po' in malora, a un mondo migliore. Grazie a tutti, vi aspetto, ciao.